rapimento della chiesa rapimento della chiesa come non mai ti sorprenderai capirai tante cose e imparerai tante cose e ascolterai delle cose che probabilmente non hai mai udito in vita tua anche se avrai letto decine di libri sul rapimento anche pre tribolazione e ascoltato centinaia di insegnamenti probabilmente ascolterai cose che non hai mai udito seguici sui nostri canali dio ti benedica alessio angelisti tuo fratello servo di cristo per grazia shalom